Nelle ultime ore c'è stato un confronto con gli ambulanti di Pescara, coloro che lavorano sui mercati rionali, un confronto voluto dalla categoria per cercare di risolvere alcune problematiche emerse nelle post-pandemia. Sì, assolutamente sì, un confronto molto costruttivo, sarei dire, da parte mia la massima disponibilità come sempre ad ascoltare e cercare di risolvere tutti i problemi che eventualmente sono emersi da quella riunione. Già stamattina ho convocato una riunione con gli uffici anche alla presenza del sindaco e chiaramente l'amministrazione farà tutto quello che può fare per andare incontro agli ambulanti che rappresentano un settore importante per la nostra città, Pescara ha tanti mercati e vanno tutelati e quindi vanno ascoltati coloro che ci lavorano. Nella riunione terminata ieri sera a tarda ora è emerso soprattutto qualche problema, mi corregga Assessore, sul mercato del venerdì a Pescaragolli. Sì, ad essere sinceri sono emersi dei problemi di natura generale, problemi che purtroppo derivano dal fatto che c'è stata una pandemia e quindi ci sono state delle normative che abbiamo dovuto applicare, quindi spostare dei mercati più e più volte con determinate regole da rispettare. Ci sono stati anche degli interventi urbanistici, degli interventi di viabilità, ci sono tuttora degli interventi in corso anche da parte di altri enti, pensate alla strada parco dove passerà il mezzo, la metropolitana di superficie leggera, quindi tutte queste situazioni sicuramente hanno influito sui mercati. In alcuni casi ci sono stati degli interventi a dire degli ambulanti che sono da migliorare e l'amministrazione si è fatta parte dirigente nel convocare dei tavoli e a migliorare tutto ciò che è migliorabile, c'è la massima apertura da parte mia ma anche da parte del sindaco. Partiamo al lavoro già da subito, in questa settimana cercheremo di verificare quello che oggi rappresenta il problema più importante, cioè il mercato dei colli per verificare se lo possiamo spostare nella sede originaria, stiamo preparando dei progetti e a breve avremo anche un confronto con le associazioni di categoria.